Buongiorno amici auguri buon Natale a tutti Buon Natale Buon Natale La moglie del dottore sempre forma vicino al forno Guarda che secca guarda che magra Mettiti in piedi a Mauro Oh signori Mauro in piedi Dopo la magnata guardate Dopo Natale ci ha bevato Eccola la Che è successo? Hai schiacciato il piedino al cane Come al solito sei contro gli animali Animalisti guardate quest'uomo Pesta le zampe ai cani E dopo la notte di Natale tu ancora c'hai il coraggio Che hai mangiato ieri? Poco Qui tutti hanno mangiato ancora Qui arrivano struffoli Dicevo che per tutto quello Adesso se sa perché La sera di Natale c'è sta roba così Ma è una cosa Vabbè lasciamo stare Dicevo a Susanne Vene che secondo me Giacobbo farà uno speciale Quello che ho mangiato ieri Che poi ti lasci andare E poi dici vabbè E' la sera di Natale E' la sera di Natale Ma io ieri Cioè io ieri mangiavo il patè di olive Con la cioccolata Cioè fai delle cose che veramente Che non fai mai 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 Ho bevuto il vino Io non bevo Io non bevo Ho bevuto il vino Ho bevuto l'acqua frizzante a chili Che era la propria Ho bevuto sciroppi Qualsiasi cosa Ma questa che è? Via A un certo punto L'avvocato mio mi ha mandato una cosa da Napoli Un cesto da Napoli pieno di Di zuccheri Di pasti Di dolci napoletani Mi sono attaccato a quelle persone I rococò I rococò I rococò Quella I rococò Mi sono attaccato per sol'una Mi sono attaccato a quelle Buone Buone Un metabolismo L'importante che oggi alle 11 Mangiava un putto Però C'era questo metabolismo che stai Metabolismo Ieri sera Tirava le stelle filanti Che buono Un metabolismo E' contento Che gli arrivai E' brucio Solo che io poi Ho messo tutto a mantecare Ieri sera Quando sono andato a letto Ho messo tutto a mantecare Quindi stamattina Mi sono svegliato Che veramente Buongiorno Ti giuro io Avevo i I canti della Divina Commedia Cioè proprio Vedevo l'Inferno Il Paradiso Il Purgatorio Beatrice Dante Tu vedevo tutto Tutta questa roba qua Nei sogni Negli incubi Negli pece Vedevo Pandori con le gambette Che venivano a prendermi Sai cose brutte Cose brutte Quindi Tipo dei fanami nel cinema Con tutti i sogni Io veramente Non voglio vedere più cose E poi uno dice La fame nel mondo Tutte l'ipocrisia Però quando arriva stasera qua Ma oggi c'è il pranzo Chi se lo può permettere un mino Ma tutti Io penso che quasi tutti Ieri sera Si Gli hanno dato come Menomale che oggi c'è il pranzo Ma quello? Oggi si pranza Oggi si pranza Il pranzo di Natale Oggi c'è il pranzo di Natale Menomale Capone e tortellini Fabio te che hai fatto? Dimmi che hai mangiato Fuoca roba Niente Giusto Veramente E' caldo Da lui Buongiorno C'è il cornetto della marmellata C'è il cornetto della marmellata C'è il cornetto di Natale Buongiorno